Siamo con il presidente onorario Franco Bruno, questo ritorno al Di Sanso dopo tantissimi anni, la Serie D, questa categoria molto importante, arriva un bel 3-0 all'esordio contro un battagliero troina. Certamente un bel inizio di campionato. Sì, certamente un bel inizio, soprattutto questa grande gioia pure da parte di tutti, che dopo 23 anni è la prima partita che si gioca a Rotonda in Serie D. Per un po' di tempo abbiamo girato, negli ultimi due anni purtroppo abbiamo pure pagato proprio il fattore campo per aver giocato fuori casa, insomma anche le partite in casa. Quindi questo ci fa ben sperare per andare avanti. Un bel esordio, una bella partita, un druina che non è l'ultima della classe o la cenorente del campionato, una squadra che ha giocato già da diversi anni in questo torneo. Raggiungendo pure un primo posto e facendo dispareggi con la Vibonese. Quindi penso che questa giornata è una giornata molto, molto positiva. Diop ha sbloccato il risultato, raddoppio sempre dell'attaccante del centroavanti arrivato quest'anno, proprio un ex del Troina e poi il gol di Gaetano Formicola. Un 3-0 che però non ha mai lasciato tranquilli i dirigenti. Lei era in panchina, ha visto una partita dal punto di vista agonistico, sì con grande fair play ma molto vibrante. Sì, io per quello che mi riguarda non sono mai tranquillo. Io ricordo delle partite, purtroppo, vincevamo 2-0, abbiamo perso 3-2. Io non mi accontento mai, quindi ancora sul 3-0, gridavo ancora di fare il quarto, quindi non si sa mai. Una partita molto vibrante, anche perché il Troina è una squadra molto rinnovata, con ragazze che corrono vagonisticamente molto, molto forti. Quindi hanno dato vita a questa partita. In conclusione, a chi vuole dedicare, lei personalmente o a nome della società, questo tris all'esordio di una squadra che rappresenta un centro, certamente che non è una metropoli, ma è una cittadina che anche sportivamente si fa rispettare? Dedicarla, penso, vada dedicata a tifosi che oggi non hanno potuto assistere a questa bellissima gara, che come in passato sono state sempre il dodicesimo uomo in campo, quindi la dedico a loro.